Simone, tu sei un campione di nuoto, un premio addista assoluto e ti trovi qui in qualità di testimonial per questa importante campagna. Perché hai deciso di partecipare? Si, ho deciso di sposare la causa perché mi sta molto a cuore la cosa. Essendoci passato, sento il bisogno comunque di non far finta di niente e ho deciso di far parte di questa campagna di sensibilizzazione perché voglio che la gente sia sempre di più sensibilizzata a questo tipo di malattie che sono sempre di più in diffusione purtroppo. Sono la prova che ci si può curare e si può venirne fuori. Basta fidarsi ad esempio come i professionisti lgbd, proprio come loro e quindi anche attraverso lo sport. Diciamo che quello che dico io è la mia più grossa terapia oltre che la medicina è stata lo sport perché mi ha comunque fatto condurre uno stile di vita tendente alla perfezione nel senso anche a livello alimentare e tutto quanto sono venuto fuori anche grazie agli obiettivi sportivi che mi ero prefissato. Quindi devo un grazie ai medici e un grazie allo sport e alle persone che mi hanno voluto bene. Quindi si può, basta volersi bene, farsi voler bene dalle persone che si hanno a fianco.